Musica Allora benvenuti, dunque questo è un video riassuntivo di una lezione di scripting l'incontro di scripting che abbiamo tenuto due settimane fa a Edmondo Le lezioni a Edmondo per insegnanti si tengono tutti i mercoledì alle 9 e un quarto in questo periodo e però per consentire anche ad altri di usufruirne sto facendo anche dei video in modo tale che anche da craft o da altri mondi virtuali possiate seguire queste basi di scripting Allora noi qui siamo in questo momento in Edmondo nella Welcome Area dove vedete che c'è questo giardini dove vengono spiegate le basi per il movimento e tutto se qualcuno di voi è insegnante lo invito tranquillamente a chiedermi perché tutti gli insegnanti possono avere accesso libero per poter insegnare o fare iniziative educational qua dentro Comunque entriamo nell'argomento della serata vorremmo fare uno script che recita poesie però prima di farlo facciamo una piccola premessa facendo vedere uno script che si limita a contare quindi a contare da 1 a 10 ad esempio o da 1 a 5 insomma quello che è quindi andiamo con calma quindi facciamo il tasto destro per terra creiamo quindi un cubo quindi clicchiamo e avendo creato il cubo e questo qui al momento lo chiamiamo contatore ci mettiamo dentro uno script e in questo script cominciamo a metterci una cosa che conta allora una cosa che conta ha bisogno fondamentalmente di avere una variabile intera integer che chiamiamolo conta e questa variabile intera vedremo che quando vogliamo fare in modo tale che questa scatola quando viene toccata conta da 1 a 10 ad esempio quindi adesso qui quando lo script viene resettato quindi questo è lo state entry facciamo reset così lo vediamo e poi mettiamo un bellissimo evento touch start integer count allora quando questo script viene toccato in count mi arriva il numero di avatar che hanno toccato mi basta anche solo 1 cosa faccio? faccio conta uguale 1 parto da 1 per contare e poi imposto un ll set timer event quindi imposto il timer in modo tale che ogni 2 secondi conti effettivamente quello che deve quindi adesso abbiamo fatto conta uguale a 1 e poi gli facciamo fare l'evento cioè la funzione che diciamo mostra mostra cosa fa? mostrerà sulla cima di questo oggetto il numero corrispondente a conta e poi ogni 2 secondi questo è il nostro obiettivo quindi dovremo fare ancora un evento timer ogni 2 secondi cosa farà? incrementerà quindi farà conta più più if conta è minore o uguale di 10 allora cosa faremo? gli diremo che quando conta è nell'intervallo che ci interessa deve mostrare il numero che sarà il numero successivo quindi mostra di conta e poi qui facciamo return mentre invece se il numero è maggiore di 10 quindi è andato oltre il nostro intervallo dobbiamo spegnere il timer lset timer event di 0 ok questo qui è un modo di contare che usa un timer in pratica al momento in cui si tocca si fa partire il timer ogni 2 secondi e poi si mette un contatore un valore iniziale a 1 questo valore è fuori dal programma e poi nel timer si fa la prima iterazione quindi questa è un'interazione da 1 a 10 si fa l'iterazione che fa un mostra il mostra lo vedremo qua mostra cosa fa? è una funzione che si limita a dire sopra il cubo quindi ll set text e gli facciamo dire il numero conta il numero quindi possiamo scrivere iterazione più string di conta e questa cosa la facciamo nel colore ad esempio bianco 1,1,1 quindi il percentuale di rosso verde e blu e poi 1 vuol dire pienamente visibile ok a questo punto lo script è finito cosa succede quindi script saved allora succede che a questo punto se io lo clicco clicco il mio oggetto eccolo qua dunque in teoria dovrebbe aver fatto allora c'era un motivo per che non funzionava lo script perché ero in una zona dove non erano abilitati gli scripting quindi ora lo riprendiamo sono andato in una sandbox e qui riprendiamo al nostro script contatore a questo punto proviamo a fare il dato a questo script gli facciamo un bel reset e vediamo se ci pronuncia se ci fa il 6 0 reset facciamo reset e come vedete ha detto reset e quindi ha eseguito questo pezzo ora quello che vogliamo fare è vedere se riesce a contare quindi lo riclicchiamo questa volta vedete che fa iterazione 1 iterazione 2 3 4 5 quindi praticamente vedete che fa un'interazione ogni 2 secondi quindi ogni 2 secondi cosa fa? al primo tocco in cui ha inizializzato il contatore e ha mostrato il valore poi si è fatto si è ricordato si è messo una sveglia per viaggiare prende volte e ha contato quindi tutte queste volte volendo qui potremmo anche migliorarlo dicendole che quando ha anzi facciamo così mostra gli passiamo il numero da visualizzare cioè la stringa da visualizzare e quindi facciamo un po' di editing quindi tutto questo eccolo qua ctrl c e lo mettiamo qua così diventa chiaro che cosa mostra ok? mostra l'iterazione tal detali questa funzione riceverà una stringa s chiamiamola s la stringa che devi visualizzare così facciamo un attimino anche di esercizio sulle stringhe no? delle funzioni quindi qui facciamo mostra e qui gli diamo un parametro che nel suo insieme è un qualche cosa che fornisce una stringa questa stringa viene passata a questa funzione mostra la quale prende la stringa s e la visualizza in cima al nostro oggetto questo serve perché tutte le volte che vogliamo far vedere qualcosa facciamo semplicemente mostra e quindi abbiamo questo e quando ha finito gli facciamo un mostra gli facciamo la chiusura quindi mostra così volendo si potrebbe anche dire mostra toccami questo mostra toccami così le persone quando vedono la scritta iniziale quindi facciamo salva questo è il tastino di salva vedete che quando l'ho salvato ah qui abbiamo un errore ecco mostra non stringa ma string contro s anche riproviamo vediamo quali altri errori ok a questo punto lo script dice toccami cliccandolo si fa le nostre iterazioni e quindi abbiamo fatto un bellissimo script che itera e conta da 1 a 10 allora voi mi chiederete ora ma cosa c'entra tutto ciò invece con le poesie e c'entra come nel senso che io posso avere una poesia quindi posso avere una poesia e andarmela a cercare su internet tip tip oppure la conosco già ce l'ho da qualche parte quindi andiamo un attimo in internet e cerchiamo una poesia breve sicuramente piccole poesie di grandi autori credo che avessi provato anche questo e avevo proprio preso questa qui falsa indicazione quindi prendiamo questa poesia ce la copiamo torniamo nel nostro mondino virtuale andiamo allora qui possiamo fare edit di questo oggetto e ricopiarcelo in modo tale di averne una copia e questo qui lo facciamo proprio il lettore poesie adesso vi farò vedere perché il contatore di prima o un lettore di poesie sono simili allora andiamo innanzitutto nel contenuto quindi questo qui lo chiamiamo poesia e qui nel contenuto cerchiamo di metterci la poesia la poesia essendo una lista di righe la mettiamo dentro una variabile lista che abbiamo intravvisto in alcune delle nostre ultime lezioni quindi facciamo list poesia uguale e la lista la faremo tante allora una lista sapete che inizia con una parentesi quadra aperta e finisce con una parentesi quadra chiusa punte virgola all'interno dobbiamo mettere tutta una sequenza di cose del tipo linea 1 virgola linea 2 virgola e così via attenzione che dobbiamo iniziare ogni stringa che contiene la poesia con un doppio apicetti doppio apostrofo e finirlo con il doppio apostrofo e metterla a virgola tranne nell'ultima l'ultima elemento quindi ci saranno n linea in mezzo adesso qui è solo un simbolo e linea n linea n non avrà la virgola perché la virgola separa tutti gli elementi ok quindi allora devo prendermi la mia poesia originaria la prendiamo mettiamo ctrl v falsa indicazione e devo aggiungere quindi gli apicetti infine apicetti virgola per ogni riga quindi apicetti fine apicetti virgola apicetti fine apicetti virgola apicetti fine apicetti virgola attenzione non farvi confondere perché questa virgola fa parte della poesia ma questa invece è la sintassi della lista ombra di terra straniera virgola l'ultima riga della poesia invece non devo chiuderla con una virgola e poi cancelliamo e questo diciamo è la nostra poesia ora a questo punto tutto il trucco sta nel fatto che quando io dico la mostra invece che degli iterazioni di conta devo fargli vedere l'elemento iesimo di questa lista vedete qua la lista parte in realtà da 0 quindi l'elemento 0 della lista è la prima riga quindi 1 2 3 4 5 quindi cosa succede quindi invece che conta il contattore lo faccio partire da 0 e poi qui gli devo dire di fare vedere l'elemento iesimo quello rappresentato da conta quindi facciamo mostra ll list to string e la lista to string è una bellissima funzione che estrae la stringa una delle stringhe contenute dentro la lista quindi metto la poesia e poi gli dico di estrarre l'elemento conta ok in questo modo mostriamo l'elemento conta e qui in questo caso più che dire conta forse conviene rinominare questo oggetto come i perché di solito i programmatori sono abituati a chiamarlo i questo oggetto quindi i uguale a 0 e poi facciamo vedere l'iesimo elemento della poesia quindi qui avendo cambiato conteni mettiamo i più più che lo incrementa if i minore uguale e qui abbiamo di nuovo l'elemento della poesia control c eccolo quindi facciamo esattamente questa cosa poi qua in realtà non dobbiamo andare fino a 10 ma dobbiamo andare e qui visto che siamo partiti da 0 mettiamo il minore alla lunghezza quindi ll get list length di poesia quindi praticamente se poesia è composta da 5 righe questo qui verrà 5 quindi questo oscillerà fra 0 e 4 in questo caso la poesia è fatta da 1,2,3,4,5,6 quindi sarà da 0 1,2,3,4,5 si andrà da 0 a 5 quindi ecco che if i minore di 6 che è la lunghezza della poesia allora mostrerà se invece i è maggiore di è maggiore uguale a 6 vuol dire che l'abbiamo fatta vedere tutte quindi mostrerà una poesia finita oppure qui possiamo anche mettere toccami per poesia e qui anche toccami per poesia o quello che volete e qui vedete che spegne il timer quindi a questo punto salviamo e vediamo se abbiamo fatto tutto giusto come in questo caso gli va bene ha fatto il reset torniamo qua e gli clicchiamo qua sopra e vedete che mi dice falsa indicazione confine diceva il cartello è un pochino troppo veloce forse per fare una poesia quindi possiamo cambiare l'intervallo di tempo ogni quanto lui chiede cioè va avanti sull'elemento successivo quindi torniamo apriamo la poesia e vedete che abbiamo l l set timer di 2 direi che 2 è troppo veloce possiamo fare 5 o 4 insomma quello che volete se facciamo magari 4 potrebbe essere l'ideale quindi ogni 4 secondi vediamo se legge a una velocità umana a questo punto clicchiamo e facciamo falsa indicazione confine diceva il cartello cercai la dogana non c'era non vidi dietro il cancello ombra di terra straniera e poi abbiamo Giorgio Caproni il muro della terra 1975 dopodichè vede che torna alla cosa originale eventualmente si può fare in modo tale che siano diversi colori d'altro qui potrebbe essere qualunque cosa questo oggetto potrebbe essere fatto a forma di cilindro e poi magari possiamo anche fare il tape per farlo diventare un cono ad esempio ecco quindi questo qui diventa un oggetto già a forma così oppure potete farlo a forma di libro insomma o qualunque cosa che possa far vedere insomma questa cosa e poi vi ho detto vogliamo ah poi ovviamente possiamo metterci la texture quella che vogliamo il colore possiamo cambiarlo dato rosso e facciamo magari diventare verde quando dice toccami per poesia quindi possiamo ad esempio qui vedi che qui c'è mostra string s qui possiamo dire mostra verde e possiamo fare un mostra fupiamo un'altra funzioncina possiamo chiamarla mostra rosso allora se è verde vuol dire che è RGB e il secondo quindi rosso niente verde 1 blu 0 se invece vogliamo fare in rosso dobbiamo mettere solo la componente rossa ok e mostriamo in magari in no magari facciamolo in blu che è un po' più tranquillo come colore quindi facciamo in blu la poesia allora il blu si rappresenta come 0 0 1 e poi qui facciamo mostra in verde il toccami per poesia mostrami in blu le righe della poesia mostrami qui nel timer in blu la riga della poesia e poi quando torna a capo mostra verde toccami per poesia quindi a questo punto se abbiamo fatto tutto giusto vedete che fa vedere in verde toccami per poesia e poi quando lo clicchiamo vedete che scrive in blu volendo ad esempio si potrebbe far scrivere il nome dell'autore in un colore ancora diverso oppure si potrebbe anche fare in modo tale che l'autore sia proprio il rimanga come titolo e quindi quando lo clicco invece di dire toccami per poesia possiamo mettere il titolo quando invece di dire toccami per poesia gli possiamo dire di scrivere l'ultima riga della poesia dove magari abbiamo cura di mettere il l'autore quindi invece che i gli mettiamo ll get list length di poesia questa meno uno perché l'ultimo elemento è uno in meno rispetto al numero perché cominciamo da zero e la stessa cosa quindi sempre questo comando qua e facciamo vedere quando ha finito eventualmente per evitare di riscrivere questo pezzo possiamo anche dire semplicemente quando il timer è scaduto possiamo dire ll reset script che vuol dire che quando il timer è scaduto lui inizia tutto da capo e quindi evitiamo di scrivere due volte la stessa cosa quindi facciamo ancora save script ed eccolo qua quindi vedete che a questo punto in verde si dice ah no lo dimenticavo ripeto è sempre il muro della poesia perché qui l'ho fatto andare da zero al numero di righe meno uno mentre invece dobbiamo fermarci prima dell'ultima riga e soltanto in questo modo dovremmo ottenere il voluto quindi a questo punto Giorgio Caproni il muro della terra 75 cliccando viene falsa indicazione e poi via via tutte le righe adesso può darsi anche che 4 secondi sia leggermente troppo si può mettere 3 o anche 3 e mezzo insomma si può ombre di terra straniera e poi vedete che ha fatto il reset e quindi è tornato il titolo quindi per dire chi clicca su questo cono sa che si aspetta di avere la lettura di una poesia di Giorgio Caproni allora questo diciamo che è tutto per quanto riguarda la lezione sulla poesia e tra poco vedremo anche la lezione sulle porte quiz arrivederci